Se da un lato il totonomine non accenna ad arrestarsi, adesso c'è una data per la presentazione della giunta Ghinelli-Biss. Il sindaco neoriconfermato dovrà infatti presentarla il 26 ottobre, 20 giorni dopo la sua rielezione ed intanto è stata ufficializzata questa mattina l'elezione di Ghinelli, sindaco di Arezzo e contestualmente anche del nuovo Consiglio Comunale. Per il centro-destra, oltre ovviamente al primo cittadino, nel parlamentino a retino siederanno 20 consiglieri comunali, 6 per Lega, Ora Ghinelli e Fratelli d'Italia, mentre 2 per Forza Italia, Arezzo nel cuore. Per la Lega avanti così ad Alessandro Casi, Federico Rossi, Egiziano Andreani, Vittorio Giorgetti, Piero Perticai e Fabrizio Ferrari. Ora Ghinelli porta invece in Consiglio Comunale Lucia Tanti, Simon Pietro Palazzo, Roberto Bardelli, Alessandro Calussi, Paolo Bertini e Simone Chierici. I consiglieri comunali in quota Fratelli d'Italia sono invece Luca Stella, Francesco Lucacci, Roberto Cucciniello, Giovanna Carlettini, Francesca Luccherini e Francesco Palazzini, Federico Scapecchi e Jacopo Apa, infine i consiglieri comunali di Forza Italia, Arezzo nel cuore. Per quanto riguarda l'opposizione, il gruppo di liste, composto da PD, Arezzo Cista, Arezzo 2020, Curia Marezzo e Ralli Sindaco, ha espresso 9 consiglieri, 8 più 1, ossia il candidato sindaco uscito sconfitto, Luciano Ralli. Per il PD dunque 6 consiglieri comunali, Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Donella Mattesini, Giovanni Donati, Valentina Baccari e Andrea Gallorini, Angelo Agnolucci poi per Ralli Sindaco e Francesco Romizzi per Arezzo 2020. Per il gruppo di liste Scelgo Arezzo e Conarezzo che sostenevano la candidatura di Marco Donati a sindaco, sono stati eletti due consiglieri comunali, Marco Donati e Valentina Sileno. Per il Movimento 5 Stelle, infine, è stato eletto consigliere comunale solamente il candidato a primo cittadino, Michele Menchetti.